amici buongiorno benvenuti in giamaica qui siamo a occio rios comunque siamo nei dintorni ma andremo anche dalla parte opposta dell'isola arriveremo fin dove fino a negril dove ci saranno un sacco di parti sprenati negril è un po diciamo la capitale del divertimento giamaicano perché occio rios è un po più di classe diciamo così quindi non mi si addice tanto come posto però qui mi hanno invitato qui sono venuto e chiamatemi scemo comunque non è finita dobbiamo ancora andare a fare snorkeling in un'altra piscina naturale intanto rivelo che i gabbiani hanno trovato qualcosa da mangiare mi dai un pezzo di pane che ti potrò voler buongiorno Grazie a tutti 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 E' bello però c'è solamente un tipo di pesce A parte una razza Grazie a tutti